Ciao, come state? A me i miei amici clown manca un sacco a girare per le corsie, ma siamo contenti perché abbiamo trovato un sacco di modi nuovi per stare insieme, come progetto a distanza sicura. Inoltre, anche quest'anno ci sarà la boutique dei nasi rossi. Non sai cos'è? Eh, c'è ancora un tempo per remediare. Io sono così contenta perché quest'anno potrò essere ancora parte più attiva di questo progetto, con magliette ricamate a mano, da me ovviamente in stile ABS. Possono essere tue con una donazione minima di 25 euro. Ti aspettiamo, a presto! in modo di muovere per stare insieme. Scusate ma mi colà il naso. Ah! Dai, il mercatino, la boutique... Stocca! La boutique dei nasi rossi. È l'occasione giusta per trovarci? No? C'è il covid. Quindi non ci si trova. Ok! Oh, mirola! Sì! 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 Alla brocca! Bis гр Autore!